Lo stadion pensa già al mercato, per Milinkovic. Cori contro Sarri. L'Alliant Stadium sa apprezzare i grandi giocatori, non è una novità. I più attenti ricorderanno gli applausi a Cristiano Ronaldo dopo il gol iconico segnato in rovesciata nella partita dei quarti di finale della Champions 2018. Poi CR7 sarebbe arrivato a Torino l'estate successiva. Sergei Milinkovic-Savic. Che stasera sfidava la Juve con la sua Lazio, ha giocato una partita molto meno brillante rispetto a quella del portoghese cinque anni fa. Ma il pubblico di Torino, che evidentemente sogna di vederlo in maglia bianconera l'anno prossimo, gli ha tributato una pioggia di applausi al momento del cambio con Marcos Antonio nel finale. Il serbo non ha ovviamente risposto al pubblico, anche se la sua espressione non sembrava certamente infastidita. Se son rose, fioriranno la prossima estate. Continua invece il rapporto complesso tra Maurizio Sarri e i tifosi della Juve. L'universo bianconero non ha mai accettato il tecnico toscano, nonostante abbia regalato alla signora l'ultimo scudetto. Quello del 2019-20. E stasera non sono mancati cori poco rispettosi verso l'attuale tecnico della Lazio.